Al via ufficiale la quarta edizione della Varese Design Week che da qui al 9 aprile propone una ventina di eventi dislocati in tre location, centro storico, capannone rossi di Masnago e Campo Novo al Sacromonte. L'immagine è simbolo della manifestazione, lo splendido mosaico realizzato dalla A.L. Croci che ha sede in Piazza Motta e che si è ispirata alla Cappella Sistina per dare l'idea di un passato umanistico, spirituale e culturale che proietta la propria energia a un futuro già presente. Quest'opera che abbiamo realizzato ha preso spunto dal logo che gli architetti della Varese Design hanno creato, cioè la riproduzione delle mani ormai meccaniche e tecnologiche riprendendosi però alla Cappella Sistina a creazione di Adamo. E noi abbiamo fatto un misto interpretando, praticamente riproducendo una mano come quella disegnata dagli architetti della design e una in stile originale realizzata con smalti di murano e pietre a spacco. In mezzo abbiamo messo questo contatto, questo vortice di potenza creativa che poi scarica e regala una capacità di fare arte, di andare avanti con la tecnologia eccetera. Il punto di non contatto che aveva voluto Michelangelo è stato rispettato però c'è un trasferimento di forze date anche un po' dai materiali.